Ciao amici, siete tutti pronti? Oggi vi racconto una storia veramente paurosissima! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È una sirena! Pirati, venite qui! Devo dirvi una cosa importante! Che cosa dirà il capitano Katie alle piratesse? Quindi che cosa dobbiamo fare? Devono risolvere un indovinello per raggiungere il tesoro! Arr, come faranno i pirati ad attraversare e raggiungere il tesoro? Il ponte non c'è più!